A Manuela Cuoghi, oggi assoluta protagonista di questa vittoria, vorremmo chiedere un breve commento, ma anche e soprattutto un bilancio su questa stagione agonistica che sta per concludersi. Abbiamo riscontrato tante difficoltà all'inizio dell'anno, soprattutto sul lato fisico. Abbiamo avuto delle infortuni che ci hanno prodotto situazioni non troppo facili. Poi sono stati un po' di scontri, parliamone così, all'interno di società e quindi trovi un attimo di difficoltà, di scontri ovviamente, di idee. Siamo arrivati qua con un passo più indietro, perché potevamo essere sicuramente più avvantaggiate. Diciamo che oggi la vostra vittoria ci serviva per darci del nostro morale e del sorprendimento orgoglio della squadra. In prospettiva anche il prossimo anno dovrete fare un regalo così ai vostri tifosi, full scudetto per la promozione di Serie D. Il prossimo anno è ancora lontano, adesso vedremo che cosa succederà. L'importante è che noi sappiamo di aver fatto quello che potevamo fare e che sicuramente quello che si può sempre migliorare. A Mauro Oriente, tecnico del Porto Mantovano, facciamo i complimenti, perché nonostante la sconfitta è stata una bella gara condotta dalle sue ragazze. Grazie, grazie. Insomma, gruppo giovane è molto molto promettente, sono tutte ragazze del 2000-2001 e sono contento per la stagione. Sul piano tecnico a volte hanno commesso degli euro abbastanza gratuiti, però fa parte sempre dell'esperienza e spero che il prossimo anno siamo a cercare un po' di arginare un po' questa cosa qua.